Reagire da gruppo, il Bari lo ha fatto dopo un avvio stentato in cui erano mancati più i punti che le prestazioni e ha portato a casa la prima vittoria del campionato di Serie B 2024-25. Il 2-0 al Mantua è stato un compendio di fame e concretezza. Tre punti voluti dal primo minuto con tanta pressione alta sui uomini di Possanzini e due giocate su palla inattiva a indirizzare il punteggio verso il bianco-rosso. Prima Lella di testa, poi Mantovani al volo di sinistro. Una vittoria di squadra nel segno di uno spirito che Moreno Longo sta provando a forgiare dal primo giorno di lavoro. Quello che noi stiamo, e mi piace sottolinearlo, creando e dobbiamo alimentarlo e dovrà diventare una forza per noi e creare un'anima di questa squadra. Perché parliamo sempre giustamente di numeri, di tecnica, di tattica, ma questa è una squadra che ha cambiato 15 giocatori, 5 sono arrivati pochi giorni fa e chi ha fatto calcio sa che nello spogliatoio non è solo calcio, ci sono relazioni, ci sono equilibri, ci sono rapporti e noi in questo stiamo crescendo giorno dopo giorno. Le palle inattive stanno lentamente diventando una risorsa per il Bari. Se a Genova contro la Sampdoria Lasagna non aveva capitalizzato al meglio il calcio di rigore avuto a disposizione, contro il Mantova le due reti da tre punti sono arrivate proprio con la modalità che in avvio di stagione, vedi alle voci Juve Stabia a Mantova, Radunovic e compagni avevano pagato caro. Il fatto che ci abbiamo lavorato tanto e ci lavoriamo tanto contro, quindi vuol dire che le sviluppi anche a favore, quindi di conseguenza ci ha portato a un doppio vantaggio. Però questo fa parte degli episodi, secondo me il gol il Bari lo meritava prima, già su azione, poi un po' per imprecisione, un po' anche per bravura dell'avversario non è arrivato, però ripeto, fa parte degli episodi. Domenica prossima sarà sfida al passato per Longo che torna a Frosinone, in una piazza in cui sei anni fa aveva festeggiato la promozione in A. Da valutare le condizioni di Kevin Lasagna non destano preoccupazioni, invece Vicari e Falletti sostituiti in corsa contro il Mantova. Avrebbe giocato il secondo tempo fuori ruolo, Falletti è uscito per Crampi, e Lasagna è uscito perché aveva un problema alla schiena che... Tutti recuperarono insomma. Ci auguriamo assolutamente di sì.